Fratelli e sorelle, noi tutti dobbiamo credere che i pastori e gli anziani sono stati scelti e nominati dal Signore e che servono il Signore. Obbedire ai pastori e agli anziani significa obbedire al Signore. Se resistiamo e condanniamo i pastori e gli anziani, allora stiamo resistendo al Signore. In che modo ci significa resistere al Signore? Possono i pastori e gli anziani rappresentare il Signore? I pastori e gli anziani non possono essere paragonati al Signore. Giusto, è vero. Vi chiedo, riflettiamoci su tutti quanti insieme. Chi procede alla predicazione nella Chiesa? I pastori e gli anziani. Sì, sono i pastori e gli anziani. Giusto. Solo i pastori e gli anziani comprendono la Bibbia e sono in grado di interpretarla. Solo loro possono guidarci. Amen! Pertanto, a patto che ciò che dicono sia conforme alla nostra Bibbia e si basi sulla Bibbia, dovremmo rispettarli e obbedirgli. Amen! Finché ciò che fanno i pastori e gli anziani è conforme alla Bibbia, dovremmo accettarli e seguirli. Amen! Ora, ditemi, obbedire e ascoltare i pastori e gli anziani, come potrebbe essere sbagliato? Sicuro che non è sbagliato. Questo non può essere sbagliato. Noi crediamo in Dio, dobbiamo ascoltare Dio, non le persone. Sono i pastori e gli anziani che ci stanno guidando da tanti anni. Non capisco. Allora perché abbiamo dubitato? Per favore, calmatevi! Per favore, calmatevi! Fratelli e sorelle, sulla questione se i pastori e gli anziani sono stati scelti e nominati dal Signore, ascoltiamo la comunione dei fratelli e delle sorelle della Chiesa di Dio Onnipotente. Sì. Sì. Per favore, comunicate con noi. Per favore. Ciò che predicano è molto profondo, non possiamo ascoltarlo. Ascoltiamo ciò che possono dirci. Fratello Lee, comunica un po' con noi. Sì. Racconta ciò. Comunica con noi. Lode a Dio. Fratelli e sorelle, permettetemi di discutere le mie conoscenze a riguardo. Va bene. Nella religione, alcune persone pensano che i pastori e gli anziani siano tutti scelti e istituiti dal Signore. Quindi le persone devono obbedirgli. Tale punto di vista, ha un fondamento nella Bibbia? È provato dalla parola del Signore? No. Ha la testimonianza dello Spirito Santo e la conferma dell'opera dello Spirito Santo? No, affatto. Se le risposte sono tutte negative, allora la convinzione sui pastori e sugli anziani che sono tutti scelti dal Signore non deriva dalle nozioni e dalle immaginazioni della gente? Sì. Pensiamoci. Nell'età della legge, Mosè fu scelto e istituito da Dio. Questo significa che tutti i capi ebrei durante l'età della legge sono stati scelti e istituiti da Dio? No. No, non è così. Nell'età della grazia, i dodici apostoli del Signore Gesù sono stati tutti istituiti dal Signore stesso. Questo significa che tutti i pastori e gli anziani nell'età della grazia sono stati personalmente istituiti dal Signore? No, certo. Certo che no. Tante persone seguono le regole e non si avvicinano alle cose in conformità con i fatti. Di conseguenza, ciecamente adorano e seguono le persone. Qual è il problema? Perché la gente non riesce a distinguere tra queste cose? Perché non possono cercare la verità su tutte queste cose? Sì, non abbiamo mai pensato a queste cose prima. Sembra che ci sia davvero della verità da cercare qui. Sì. Fratello Lee, comunica con noi ancora un po'. Sì, per favore, comunica con noi ancora un po'. Da ciò che è riportato nella Bibbia, possiamo vedere che in ogni epoca della Sua opera, Dio sceglie e consacra alcune persone affinché esse si coordinino alla Sua opera. Coloro che sono designati e utilizzati da Dio sono confermati dalla Sua parola e se così non fosse, almeno ce la conferma che lo Spirito Santo opera in loro. Come durante l'età della legge, Dio consacrò Mosè per condurre gli israeliti. È dimostrato dalle Sue parole. Sì. Per capire meglio, apriamo tutti Esodo 3, 9, 10. Chi vuole leggere? Permettetemi. Nell'età della grazia, il Signore e Gesù consacrò i dodici apostoli per pascere le chiese. Proprio come disse il Signore quando consacrò Pietro. Simon di Giovanni, mi ami tu, pasci le mie pecore. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Amén. Questo è infatti evidenziato dalle parole di Dio. Possiamo vedere che le persone designate e utilizzate da Dio sono confermate dalla Sua parola. Anche se non c'è la prova della parola di Dio, almeno dovrebbe esserci la conferma dell'opera dello Spirito Santo. Sì, è così. Tutto il lavoro è sostenuto da Dio. Obbedire al loro lavoro significa obbedire a Dio. Chi resiste a una persona consacrata e utilizzata da Dio resiste a Dio e sarà maledetto e punito da Dio. Sì. Proprio come nell'età della legge, core data nella loro gente resistevano a Mosè. E cosa è successo? Sono stati puniti direttamente da Dio. Dio fece aprire la terra e vennero tutti inghiottiti. Sì. Sì. Tutti conoscono questo fatto. Sì. L'odio. L'odio. Nell'età della grazia, gli apostoli consacrati dal Signore furono tutti confermati dalla Sua parola. Ma i pastori e gli anziani religiosi di oggi sono consacrati dal Signore? Sono confermati dalla parola del Signore? No. La maggior parte di loro vengono istruiti nelle scuole teologiche e hanno certificati di laurea in teologia, sui quali si basano per diventare pastori. e non perché lo Spirito Santo abbia personalmente reso testimonianza di loro. Non è questo un dato di fatto? Giusto. Questo è veramente il fatto. Chi di noi ha visto lo Spirito Santo personalmente testimoniare o consacrare un pastore? Nessuno. Non succede davvero mai. Vero. Se fossero consacrati dal Signore, ci sarebbe la testimonianza dello Spirito Santo e molti credenti come testimoni. Pertanto, nessun pastore o anziano religioso è consacrato dal Signore. Questo è certo. Sì. È giusto. Giusto, sì. È vero. Ce ne sono addirittura alcuni che non credono che il Signore Gesù sia stato concepito per opera dello Spirito Santo. Credono che il concepimento per opera dello Spirito Santo non sia scientifico. non è probabile che queste persone ammettano che Cristo è la manifestazione di Dio. Infatti. È vero. Se tali pastori fossero esistiti durante il tempo in cui operava il Signore Gesù, certamente non avrebbero accettato il Signore Gesù. Quindi, come avrebbero considerato l'apparizione e l'opera di Dio incarnato negli ultimi giorni? Sì. Si sarebbero tutti comportati come i sommi sacerdoti ebrei, gli scribi e i farisei, condannando e opponendosi furiosamente al Signore Gesù. Sarebbe andata sicuramente così. Già. I suddetti pastori e anziani sono persone che veramente obbediscono a Dio? No, sono tutte persone che resistono a Dio. Non credono neanche nel Dio incarnato e, ancora meno, riconoscono le verità espresse da Lui. Queste persone non sono degli anticristi. Sì, lo sono. Quindi il parere che i pastori e gli anziani sono tutti consacrati e utilizzati dal Signore è ancora sostenibile? No, per niente. Se insistiamo che questi pastori e anziani sono consacrati e utilizzati da Dio, non è questa calunnia e blasfemia contro Dio? Sì. Dio consacrerebbe e utilizzerebbe questi miscredenti e anticristi per guidare il popolo eletto di Dio? Certamente no. Lui ha ragione. Un tale punto di vista non è del tutto assurdo e fallace? Sì, è davvero assurdo. Questo non significa distorcere i fatti e confondere il bianco con il nero. Sì, è così. È giusto. È proprio così. Crediamo nel Signore, ma non capiamo la verità. Siamo incapaci di comprendere. Fratelli e sorelle, dopo alcune comunioni, ora abbiamo tutti le idee chiare. Tutti coloro che sono stati scelti da Dio hanno la Sua personale testimonianza e hanno almeno la conferma e gli effetti dell'opera dello Spirito Santo e possono aiutare il popolo di Dio a ottenere il nutrimento della vita e la vera pastura. Sì. Sì, è vero. Ha ragione. Poiché Dio è giusto e santo. Amo. Amo. Coloro che sono consacrati e utilizzati da Dio sono in linea con la Sua volontà. Sicuramente non saranno degli ipocriti, farisei, e ancor meno saranno degli anticristi che odiano la verità e si oppongono a Dio. Giusto. Di sicuro Dio non farà degli anticristi un Suo strumento. Amo. Quindi diamo un'occhiata ai pastori e ai capi religiosi di oggi. La maggior parte sono istruiti presso scuole teologiche e non personalmente consacrati e utilizzati da Dio. Si limitano a studiare la teologia e la Sacra Bibbia. La loro predicazione si concentra solo sul parlare della conoscenza della Bibbia, della teologia o dei personaggi e delle storie bibliche, contesti storici e così via. È vero. È proprio così. Parla solo di quello. Inoltre, ciò che fanno è indottrinare le persone a praticare riti religiosi e seguire le regole. Non gli interessa mai comunicare la verità nelle parole di Dio, né guidare le persone a praticare le parole di Dio o ad osservarne i comandamenti. Non parlano mai di come conoscere se stessi o delle esperienze reali di ingresso nella vita. E fatti. E ancora meno discutono della vera conoscenza di Dio. Sì, è vero. È così. È possibile che tali lavoro e prediche realizzino l'opera dello Spirito Santo. No. No, certo. No, certo. Può tale servizio soddisfare le intenzioni di Dio? No. Ma no. No. Può portarci a praticare la verità e a intraprendere la vera via della fede in Dio? No. Assolutamente no. Spiegando la Bibbia in questo modo, non stanno camminando su un percorso di resistenza a Dio? Sì, questo davvero significa resistere a Dio. Soprattutto quando Dio Onnipotente esprime le verità e compie la Sua opera di giudizio. Questi capi religiosi sanno che le parole di Dio Onnipotente sono tutte verità e possono purificare e salvare le persone, ma non le cercano né le accettano. Ancora più ripugnante è il fatto che non permettano ai credenti di leggere le parole di Dio Onnipotente. Giusto. Per proteggere le loro posizioni, calugnano e condannano furiosamente Dio Onnipotente, collaborando anche con il PCC, il regime satanico, negli arresti e persecuzioni degli evangelisti. Questo è commettere il male. È qualcosa che i credenti in Dio dovrebbero fare. In che cosa si differenziano le azioni di questi pastori e anziani da quelle dei farisei che resistettero al Signore Gesù? Sono moderni farisei. Giusto. Non sono loro ad ostacolarci e impedirci di accettare la vera via. Sì, certo. Come potrebbero queste persone che si oppongono a Dio essere consacrate e utilizzate da Dio? Infatti. Dio nominerebbe queste persone che odiano la verità e ostacolano la volontà di Dio a guidare il popolo eletto da Dio? Certamente no. Certamente no. Certamente no. Giusto. Certamente no. Questa è la verità. Giusto. Lode a Dio. Più ascolto la vostra comunione, più mi sento illuminato dentro. Lode a Dio. Le persone consacrate e utilizzate da Dio sono testimoniate da Dio e sono confermate dalla parola di Dio. Senza la parola di Dio, almeno deve esserci la conferma dello Spirito Santo. Sì. Amén. Sì. Amén. È molto chiaro. I pastori non sono testimoniati né dalla parola di Dio né dall'opera dello Spirito Santo, come potrebbero essere consagrati da Dio. Giusto. Noi crediamo nel Signore da tanti anni, eppure non riusciamo a capire questo problema. Noi siamo veramente miseri e ciechi. Sì. Senza questa comunione, davvero non saremmo stati in grado di capire. Lodi a Dio. Questa comunione è veramente illuminante. Amén. Lodi a Dio